Ciao a tutti, San Valentino è ormai alle porte e se ancora non avete pensato cosa regalare alla vostra anima gemella o come trascorrere questa giornata speciale, noi abbiamo scelto per voi tre storie romantiche e tre idee regalo allo stesso tempo. Roberto Emanuelli, buonanotte a te, Nicola Barro, la donna dei miei sogni e infine Fabrizio Caramagna, il numero più grande è 2, di cui mi piacerebbe leggervi un aforisma contenuto nel libro. Ci sono persone che entrano nella tua vita per farti felice e altre per cambiare la tua idea di felicità e non è la stessa cosa. Buon San Valentino a tutti!